Simboleggiano anche le cadute mie ma di ogni persona durante il proprio percorso, ma lì si riconosce poi il vero campione, colui che ha il coraggio di rialzarsi più velocemente degli altri. Tutte persone che hanno vestito la maglia azzurra e hanno portato in giro per il mondo il tricolore con grande onore. Un inno che vuole un po' rappresentare tutto lo sport italiano. È un bellissimo pensiero, un'iniziativa che arricchisce ancora di più la meravigliosa storia di questa associazione.